Buongiorno a tutti quanti, vi parla Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo. Oggi sono solo in radio perché Francesco è impegnato nella preparazione per il rito che terremo presso il Bosco Sacro di Iesolo sabato 24 settembre, cioè sabato dopo domani. Allora, io intanto ho un po' di cose da dire prima di iniziare la trasmissione vera e propria. Innanzitutto sono mancato dai microfoni in radio per due settimane. Sono mancato perché purtroppo o fai una cosa o ne fai un'altra, cioè quando uno fa un lavoro da turnista in fonderia come faccio io, chiaramente il tempo che è libero deve suddividerlo per quello che può fare e anche se ci sono migliaia di cose che vorremmo fare non riusciamo mai a farle tutte e neanche minimamente. Pertanto ho dovuto un po' dividermi fra un impegno e l'altro. La prima cosa di cui voglio parlare è un ringraziamento personale che voglio fare agli amici e amici di questa radio, Patrick e Davide, per aver organizzato a Cittadella la festa di Veneti all'inizio del 4 settembre. vi ringrazio perché? Perché innanzitutto ci hanno permesso di non solo avere uno spazio in cui presentare la federazione pagana e in cui presentare le sacre radici. per cui è quelli che sono i nostri lavori, quello che è la nostra attività e quello che è il nostro modo di esporsi davanti alla vita. Però ci hanno dato anche l'occasione per la seconda volta, perché già lo scorso anno venne fatto da Francesco e da altri, di portare in manifestazione, di fare una sfilata per le vie di Cittadella con un'antica divinità veneta che è Reitia e rifacendo rinascere quello che è la tensione pagana e il paganesimo, il piacere della vita e le relazioni dell'uomo col mondo. Le relazioni dell'uomo col mondo che sono l'essenza stessa della nostra esistenza. Bene, proprio in onore della festa dei Veneti abbiamo portato in manifestazione la Dea Reitia che è la Dea della scrittura, la Dea della caccia, cioè quello che rappresenta una relazione precisa fra l'uomo e il mondo che appartenevano ai Veneti antichi. Però non avremo nessun problema di sfilare con Mater Matuta, di sfilare con Giunone, di sfilare con Zeus, con Hera, non abbiamo nessun problema di sfilare con i Titani, di sfilare con Prometeo e con qualunque altra immagine che dia il senso della vita, cioè il senso della relazione fra noi pagani e il mondo. Pertanto per questo motivo ringrazio Patrick e Davide per averci dato questa occasione ed è un'occasione importante perché Francesco l'ha sfruttata molto bene facendo anche delle magliette, preparando delle magliette con antichi colori Veneti che è la Dea Reitia sul sfondo rosso e praticamente all'interno della manifestazione come gruppo eravamo anche identificabile. All'interno della festa dei Veneti abbiamo fatto anche un'altra cosa, ho preparato una mostra, una mostra di articoli, di giornali relativi a quelle che sono le recentissime scoperte archeologiche sui Veneti, sui Veneti antichi, la tradizione per esempio la fama che avevano i cavalli veneti, i vari ritrovamenti, i vari insediamenti, quello che è stato anche lo sviluppo dall'età paleolitica, l'età antichissima a tutta quella civiltà cosiddetta del neolitico che va anche sotto il nome di età villanoviana in certi scritti e che attraversa in realtà tutta l'Europa ed è importantissima e fondamentale, nel senso che è una civiltà talmente avanzata che ancora oggi i dati sono scuri ed è una civiltà che la troviamo dal Mediterraneo, dalla civiltà micenea fino al nord Europa. Gli ultimi ritrovamenti, ma lo stesso Stonehengeas per esempio le stesse civiltà megalitiche stanno a testimoniare di questa grande civiltà che è stata all'interno del cuore dell'Europa. Ebbene, riuscire a scoprire anche i legamenti, anche le assonanze fra tutte le civiltà che hanno attraversato il ciclo della storia e che hanno portato anche la nascita dei veneti, ma anche dei sanniti, anche degli etruschi, anche dei sardini, cioè dei popoli del mare, anche dei tirreni, anche delle civiltà minoiche, delle civiltà archee, delle antiche civiltà egiziane e le interconnessioni anche commerciali che sono fra di loro è fondamentale, perché quando parliamo del popolo dei veneti non è che il popolo dei veneti sia un'isola staccata dal mondo e dall'universo, ma è un centro culturale, è un insieme di popolazioni che all'interno di un circuito commerciale, all'interno di un circuito di relazioni sociali che era eccezionale. Se voi pensate che i cavalli veneti venivano usati per le corse nella città di Siracusa, che allora era un centro enorme, importantissimo della Magna Grecia, e arrivavano ad Atene, venivano importati ad Atene per le gare, per le Olimpiadi, per quelli che erano i giochi Atenesi, voi pensate che razza di circuito di conoscenze commerciali che ci fosse, noi stiamo parlando del 500 a.C., 400, 600, 700 a.C., stiamo parlando di un'epoca in cui le comunicazioni non erano certo quelle internetiane. Purtanto riuscire anche a collocare quello che sono i veneti antichi all'interno di quell'insieme, è importantissimo. Per esempio, c'è sempre quell'episodio storico che è fondamentale, per cui i veneti furono coloro che resero effettivamente grande Roma. Perché vi ricordo che quando Brenno invase Roma, non fu semplicemente Camillo che cacciò Brenno da Roma, ma i Celti di Brenno vennero attaccati al nord dei veneti. Fu l'esercito veneto che attaccò i Celti e costrinse Brenno alla ritirata. E per cui è una cosa importante, questo legame che c'era fra gli antichi Veneti e Roma è un legame antichissimo e passa attraverso gli Etruschi. E vi ricordo che gli Etruschi sono ancora una civiltà legata a quello che è la Sardegna e la Sardegna a quei tempi era praticamente il centro assoluto del Mediterraneo, cioè la più grande potenza che c'era nel Mediterraneo, finché lo tsunami non spazzò via l'antichissima civiltà. I popoli del mare avevano invaso l'Egitto, avevano anche conquistato l'Egitto i Sardi, tanto per avere un'idea di ciò che successe a quei tempi. Bene, noi abbiamo fatto questa mostra che ha avuto un buon successo alla festa dei Veneti, ha avuto alcune centinaia di visitatori, naturalmente ci sono state centinaia e centinaia di discussioni e torno a ripetere per la prima volta, per la prima volta direi in maniera ancora più significativa dello scorso anno, quella che è rimasto, sì va bene insomma, ho ricevuto adesso un fax, mi sono un attimo distratto e ho perso un attimo il filo del discorso. Comunque abbiamo fatto centinaia di discussioni e per la prima volta c'è stata questa manifestazione di Reitia, la seconda volta rispetto all'anno scorso, però questa volta come anche gruppo identificabile molto chiaramente, che ha sfilato per le strade di Cittadella. E questo ringrazio naturalmente sia Patrick e Davide per questa opportunità. Naturalmente su internet ho caricato tutte le fotografie che ho scattato durante la manifestazione, dedicando una pagina apposta. Naturalmente le mie fotografie sono relative a quello che noi abbiamo fatto all'interno all'interno dell'insieme. Poi ci sono tutte le fotografie della Festa dei Veneti che invece trovate sul sito di Raise Veneti e sul sito di Raise Veneti trovate invece la festa nel suo complesso. Cioè hanno partecipato circa 20.000 persone, tanto per avere un attimo di numeri e sono sfilati molti gruppi, è sfilato un gruppo celtico da Verona, sono sfilati i gruppi in costume, molte rappresentazioni sono state abbastanza significative. Per non parlare anche da massiccia presenza della radio alla festa, insomma, molti speaker di questa radio erano presenti alla festa. Bene, detto questo passiamo ad un altro argomento. Continuiamo invece con la festa di Veneti, è stata premiata una persona, cioè una persona è stata premiata da Patrick e Davide per l'impegno che ha profuso nella festa ed è il nostro amico Alberto. Il nostro amico Alberto purtroppo qualche giorno fa ha avuto una discussione piuttosto feroce con Fuoristrada Frontera, mi sembra che si chiami così. Nella discussione praticamente la sua auto appena acquistata è andata completamente distrutta, Frontera non vi dico come è messo anche quello e il nostro amico Alberto è in ospedale con fratture multiple al femore, frattura alla clavicola e contusioni varie. Non è gravissimo, è stato operato ieri, ha avuto 5 ore di sala operatoria, hanno dovuto levare anche le piccole scheggette che hanno trovato del femore spezzato e comunque si è risvegliato bene dall'anestesia, ieri sera l'ho visto abbastanza bene, lo sto un attimino seguendo in ospedale. In ogni caso insomma fra poco ritornerà in forma, fra poco, quando si sarà sistemato il femore, quando si sarà ripreso, con i suoi tempi e i suoi l'ho proprio beccato in pieno. Purtroppo così è, succedono anche queste cose. Comunque insomma tutto sommato l'operazione sembrerebbe andata bene e tutto a posto, adesso un po' la volta si riprende. Va bene, detto questo passiamo ad un altro argomento, c'è un'associazione di Vigo d'Arzare che fa incontri, incontri di vario tipo, di varia natura, più o meno come quelli che vengono propagandati anche qui in radio, abbastanza sovente diciamo, praticamente è l'associazione culturale Pietra di Luna in cui sembra che la responsabile sia una fisioterapista da quello che mi hanno detto, però non vorrei dire delle sciocchezze, in ogni caso probabilmente prima o dopo sarà in trasmissione con noi, insomma, per cui vi illustrerà un po' meglio la loro attività. Tengono una serie di incontri ogni venerdì con incontri di Reiki, praticamente fanno corsi anche di Reiki primo o secondo livello, io non so esattamente cosa siano corsi di Reiki primo o secondo livello e trattano quello che insieme di cosiddette pratiche vengono chiamate medicina alternativa, che però, attenzione, non fanno medicina, cioè assolutamente, ma hanno semplicemente questa conoscenza che è una conoscenza natura epatica, ma penso che qui ormai ce ne siano parecchi di tutto questo, forse l'unica differenza è che fanno anche lavoro di meditazione, fanno a carattere interno. Le attività dell'associazione sono tutte riservate ai soci, per cui è un'associazione che non fa lavoro verso l'esterno dei soci, ed è l'associazione culturale Pietra di Luna, tra tante metodiche per il benessere psicofisico e la trovate in via Cosme Tura 2, a Ponte Vigo d'Arzare. Da quello che mi è stato detto, io qui ho una serie di attività che loro svolgono, però praticamente si tratta di riflessologia plantare, connettivale, fiori di bacche, chinesiologia, intolleranza alimentare, penso che siano cose che ormai trovate anche abbastanza comunemente, però fanno anche riunioni di meditazione, fanno anche tutta una serie di pratiche. Torno a ripetere, io ho avuto questi dati, queste riunioni e queste... vediamo un attimino, qui sta arrivando un po' di fax, un po' di materiali, staremo a vedere dopo la fine cosa ne faremo. Va bene, comunque io spero che la responsabile sia in radio con noi, così vi potrà raccontare un po' meglio le sue attività e come loro le concentrano, perché sembra che sia un'associazione, come diceva Franco, piuttosto interessante, al di là delle singole cose di ricerca del benessere, di massaggi e altre cose, si abbiano anche altre attività più interessanti. Comunque in ogni caso, l'associazione è l'associazione culturale Pietra di Luna ed è in via Cosme, Tura 2 a Ponte Vigo d'Argere e niente, avremo la responsabile qui in studio che ci racconterà un po' le cose che fanno e le cose che praticano. Va bene. Ok, detto questo, passiamo a una cosa ancora più interessante che riguarda noi. Allora, il giorno 24 settembre, cioè dopodomani, presso il Bosco Sacro di Jesu, otterremo il rito dell'equinozio d'autunno. Per cui l'appuntamento per tutti i pagani è per dopodomani a Jesu, pomeriggio, dove starà il rito dell'equinozio d'autunno. Quest'anno il rito sarà diverso dagli anni scorsi, perché quest'anno il rito lo organizzerà, lo ha pensato e organizzato Francesco. Pertanto io non intervengo assolutamente all'interno del rito. Perché questo? Perché stiamo costruendo appunto la ieratica pagana e stiamo valutando tutto un ventaglio di possibilità nel esplicare il rito. Il rito dell'equinozio d'autunno, che sarebbe il rito del silenzio, il rito dell'entrata negli altri mondi, viene organizzato quest'anno in maniera differente. Ed è forse il periodo di rito che si presta di più alla sperimentazione. Perché questo? Perché noi siamo una federazione pagana, cioè noi siamo un insieme di persone che sentono chiaramente il mondo attorno anche in maniera diversa. Per cui fino ad oggi i riti li ho sempre organizzati io ed è giusto che delle variabili, dei riti diversi vengano introdotte proprio anche per permettere alle persone di avere una visione diversa della ritualità pagana e dopo di poter scegliere, di poter valutare, di poter pensare ciò che a loro è più affine o più diverso. Ed è importantissimo che facciamo questo perché in questo momento storico, cioè in questo preciso momento, la federazione pagana si sta costruendo tutta una serie di variazioni, cioè tutta una serie di elementi e tutta una ricchezza che permette alla federazione pagana di diversificare quello che è il suo intervento. Pertanto l'appuntamento è per sabato 24 presso il Bosco Sacro di Jesolo e vi invito ad essere presenti tutti quelli che sono già stati i riti e chi volesse sarebbe bene che desse un colpo di telefono e che ci avvertisse. I numeri di telefono li abbiamo sempre dati per radio, i numeri di telefono li potete trovare in internet tranquillamente senza problemi, vi ricordo che sono Claudio Simeoni e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan Otto Marghera e potrete condattarci e magari anche assistervi o parteciparvi. Anche se siamo abbastanza rigidi, diciamo così, nella partecipazione. Qualche volta sì, siamo stati anche elastici in alcune situazioni, altre volte siamo stati più rigidi invece, ma dipende anche molto dal momento e dall'estro che abbiamo in quella situazione. Per cui appuntamento per dopodomani sabato presso il Bosco Sacro di Jesolo per il rito dell'Equinozio d'Otunda. Tutti quelli che hanno partecipato sanno benissimo che il rito praticamente comincia poco prima dell'imbronire, poco prima del tramonto. Adesso non so a che ora sia il tramonto, ma sicuramente il rito comincerà sulle 6 e mezzo, 18 e 30. Dopodiché, una volta finito il rito, ci troviamo tutti quanti a mangiare la pizza da qualche parte, dai parti di Jesolo. Bene, ok, allora passiamo ad altri argomenti. argomenti più propri a questa trasmissione. Io di argomenti ne ho più di uno. Ho visto un fax, parlateci un po' per cortesia, potresti spiegarmi il vostro pensiero di pagani? Voi che dite che Gesù è stato un infame. Sì, il problema non è che il Gesù è stato un infame. Sì, Grazie.